Adesso ha detto una cosa molto importante, Polito, perché ha detto che i porti devono restare chiusi senza quei barconi in mare, perché poi alla fine effettivamente vedere quell'immagine era terribile. Forse però dobbiamo sostituire l'immagine del barcone davanti al porto con l'immagine del charter che porta gli immigrati nel resto d'Europa. E questo è il passaggio che va fatto. Che è esattamente quello che non succederà, temo. E certo, ha ragione. Chi sottovaluta il problema dell'immigrazione, in realtà sottovaluta l'opinione pubblica, che è quella che poi vota e che fa vincere le elezioni, a chi si dedica alla soluzione di quelli che la popolazione stessa vive come problemi. E quindi io non sono convinto che succederà tutto questo, perché anche all'interno della nuova maggioranza ci sono in proposito opinioni molto diverse, divergenti. Quindi attenzione. Poi è verissimo che certe immagini mostrate dalla tv, le barche, piene di gente, ci mettono angoscia. Però a me risulta che anche tutti quelli malati che sono sulle barche, quando poi arrivano a Lampedusa, dopo dieci minuti stanno benissimo. Quindi Lampedusa è meglio di Lourdes. Perché la terra firma si sta meglio. Perché guariscono, all'istante guariscono. E quindi allora attenzione a fare tutta questa propaganda negativa, perché non è così. Cioè la realtà va descritta per quello che è, per quello che immaginiamo.